E ora, Nexo Knights! Ma che succede? Riproviamo. Nexo Knights, l'alleanza del Fortrex. E così, i coraggiosi e futuristici Nexo Knights andarono all'avventura nel loro straordinario castello cingolato, il Fortrex, per combattere le infide e pericolose forze del male. Merlock, che stai facendo? Il narratore, recitazione enfatica. Ascolta, Gestro sta attaccando un villaggio là fuori. Ci servi concentrato al massimo. Sì, certo, hai ragione. Mando fuori i cavalieri. Che cosa dobbiamo fare? Stiamo in posa, posa eroica. Non dovremo passare alla parte salvataggio della città. Giusto, certo. Andiamo! Perché deve sempre comandare Clay? Perché si occupa della logistica, della pianificazione e delle armi. Vuoi occupartene tu? Beh, no. Preferisco stare sdraiato in piscina. Ecco, ora che ci penso, quando facciamo installare una bella piscina anche nel Fortrex... Un modo per cominciare bene la giornata è saccheggiare un paese. Ti ho detto che la mattina dovremmo dormire e cominciare i saccheggi al pomeriggio, ma tu no! Non vuoi mai ascoltare il tuo vecchio amico il libro dei nostri? Saccheggi, saccheggi, saccheggi. Non sai pensare ad altro, vero, Gestro? Il mio pensiero è sempre un passo avanti al tuo! Ehm, qual è il piano? Apri a pagina 7, evoca dei mostri di rinforzo, presto! Sì! Sarò diventato bravo a essere cattivo! All'attacco miei mostri! Bene, io gli vado incontro sul mio overscudo! Questi cosini sono veloci! Dite Cheese! Cheese! Ah! Ah! Clary è stato colpito! Chi penso io? Bel colpo, Axel! Tutti pronti per il Nexo Scan! Siete dei malvagi mostri sputafuoco! No, dimostratelo! Attacchate! Merlock! Nexo Knight! Nexo Power! Formazione del coraggio! Acquisizione! Nexo Knight! Ora abbiamo più forza per toglierne a te, gestro! Ah, ma è la tua peggior battuta pre-battaglia mai sentita! Facciamo così, preparerò del nuovo materiale per te! Hopp! Ah! 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 Oh non 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 non! Ehi! Dormete indietro! Combatera! Molto bene, e adesso? Oh, è molto semplice! Ce l' andiamo a dire? Buonanile di corsa! Ragazzi, voi sì che sapete come stare in posa eroica. Eh sì, siamo bravi, vero? Senti, hai una piscina? Merlock 2.0. Nexon Knights, ancora una volta avete difeso il nostro bel reame. Ora leggerò un piccolo discorso. Tanto tempo fu, quando le foreste erano giovani e le montagne cominciavano a crescere, questa terra era abitata da mostri! Caro, sono di nuovo dovuti partire per salvare il regno.